Dolcetto, scherzetto o gufetto? Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video dedicato un po' ad Halloween e un po' all'autunno. Ad Halloween per chi festeggerà Halloween, all'autunno per chi vuole abbellire casa o fare qualche pensierino d'autunno, magari per un pranzo domenicale ad esempio. Oggi faremo infatti dei gufetti portadolcetti, delle piccole scatoline a forma di gufetto o civetta, interpretatele voi come meglio credete, semplici da fare con materiali da riciclo veramente poveri, low cost ma molto molto carini e divertenti. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere il nostro gufetto come si fa. Ed ecco l'occorrente per fare i nostri gufetti di Halloween o, come piace dire a me, gufetti autunnali perché non è detto che siano solo per Halloween. Tutti i progetti di Arte per te sono progetti molto versatili. Pensateli magari con un tocco in testa come bomboniere per le lauree, per metterci dentro i confetti. Quindi un multitasking di gufettosità. Ci occorreranno un rotolo di cartigianica per ogni gufetto che vorremmo fare. Una pigna. Un bastoncino cotonato di ciniglia per ogni gufetto. Una pinza, questa qui col beccuccio sottile. O qualcosa per staccare le varie squamette alla pigna. Io userò degli occhietti che si muovono, ma voi potete anche disegnarli se non ce li avete o farveli da voi con questo video che vi lascio nell'info box in cui vi spiego come fare gli occhietti che si muovono. E poi io userò dei pennarelli acrilici, ma potete usare anche degli acrilici a pennello o dei semplici pennarelli. Tra tutti vi sbrigate prima però con questi. Pistola per colla a caldo con relativa stecca. Iniziamo subito. Come prima cosa schiacciamo a metà la nostra anima di cartigianica e coloriamola tutta quanta di, nel mio caso, marrone. Poi scegliete il colore che più vi piace. A questo punto da una parte teniamo pressato e dall'altra facciamo combaciare così i due estremi laterali. In modo che si formi una piega sulla destra e sulla sinistra. Quindi, fatto questo, schiacciamo. Si verrà a creare questa imboccatura che noi stringeremo il più possibile. Con l'aiuto di qualcosa di tondo, io ho qua il goniometro di Enzo, creeremo un movimento tondeggiante. Lo presso appena 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 con un bulino, da una parte e dall'altra. E adesso schiacciamo in dentro sia da una parte che dall'altra. Così. E così avremo creato una sorta di scatolina entro cui contenere magari le caramelle. Adesso questa codina la giriamo facendo fare un movimento su se stesso e facciamo in modo di unire i due lembi sotto con un punto di colla a caldo. Quindi, prendiamola con la colla a caldo, inseriamola qui dove c'è questa fessurina, quindi facciamo combaciare e giriamo all'indietro. E lasciamo asciugare sul centro adesso faccio un bello ovale con una V così al centro. E coloro allo stesso modo faccio una sorta di goccia qui e anche qui coloro. Dopodiché sistemo l'andamento ripassando il marrone al di fuori. Se voglio aggiungere altri colori mi basterà ripassarli. Per esempio, aggiungo un po' di peletti sull'argentato per movimentare un pochettino il piumaggio del mio gufetto. Ma così, vedete, dei trattini in maniera molto molto disordinata. Adesso con il nero disegno il posto dove voglio mettere i miei occhietti. E lascio asciugare un attimo. Nel frattempo prendo il bastoncino cinigliato e lo divido a metà. Quindi taglio un altro pezzettino, così, circa due centimetri. Prendo quello che è rimasto e lo metto uno un po' più lungo dell'altro. E avvito tenendo così un pezzettino fuori dall'avvitatura. Vi faccio vedere, faccio prima a farvi vedere che a spiegare. Allora, vedete, ho questo e ho questo. Questo lo porto indietro, questo lo piego e lo porto in avanti. Questo invece lo aggancio un po' da una parte e dall'altra. Così. E lo giro. E lo poggio qui e ho fatto la zampina del mio gufetto. Voi mi direte, ombretta, ma da quando i gufetti hanno le zampe rosa? Da mai. Quindi prendo l'arancione e coloro il bastoncino cinigliato. Metto ad asciugare e coloro anche il secondo. Con un punto di colla a caldo adesso adagiamo i due occhietti senza scottarci, mi raccomando. Prima uno e poi l'altro. E una volta adagiati, ripasso tutto tondo il nero. Adesso mettiamo da parte il nostro gufetto e prendiamo la nostra pigna. Scuserete le mie mani sporche, ma è praticamente inutile che io me le vada a ripulire, perché adesso me le dovrò sporcare da capo. Con una tenaglia, ed è essenziale che ce l'abbiate perché staccare le squame dalla pigna non è per niente facile, infatti ne ho appena spaccata una. Comincio a staccare qualche squama dalla pigna. Uno, prendo sei di queste squamette, di queste, non so come si chiamino, dovrei cercare, e con le forbici arrotondo leggermente il taglio con le forbici, con la pinza, con qualcosa che, ecco, le taglie abbastanza. Vedete, sono sempre in legno, quindi la pinza, poi si risolve nella parte qui, più tagliente, la cosa più adatta. A questo punto faccio le alucce e le aggancio qui così. Pistola con colla a caldo e senza bruciarci agganciamo uno, due, è un po' più alto, tre, da una parte e dall'altra. Sul retro allungo la codina apponendo un'altra squama e così nascondo il brutto aggancio. Voilà, serve qualcosa sul ciuffetto. E allora, anche qui, prendo una pignetta e attacco qui è rimasto solo il becco faccio anch'esso con un pezzo di pigna che è coloro di arancione questo magari lo posso fare anche dopo punto di colla bello alto tra gli occhi, è molto alto e attacco anche il beccuccio mancano solo le zampette ne infiliamo una qua e una qua ma sono troppo lunghe quindi piego quindi anche qua punto di colla a caldo in modo che stiano sempre ferme e le infiliamo all'interno del cartoncino da una parte e dall'altra ed ecco qua bello e pronto il nostro gufottino per contenere i nostri dolcetti o i nostri regalini i soldini quello che desiderate sempre richiudibile e poi se volete una volta utilizzato potete appollaiarlo sul rametto e tenerlo da qualche parte in casa ora faccio un fratellino per questo gufotto vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo ciao guardate che carino non è troppo carino anche per adornare una tavola autunnale insomma io metterò dentro qualche cioccolatino e li regalerò ai compagnetti di Enzo voi invece create la scatolina che più si addice alla vostra necessità bellissimi anche con l'aggiunta di un tocco in testa per celebrare le lauree quindi come porta confetti pensateci perché il gufo appunto è il simbolo dotto e quindi il simbolo delle lauree bene se questo video vi è piaciuto pollice in su condivisione e prima di andare via permettetevi di ricordarvi lui il ricettario dell'arte il mio nuovo libro il mio bellissimo libro pieno zeppo di ricette utilissime per sviluppare la creatività colle, paste modellabili stucchi, colori, medium tutto quello che ti può servire e che puoi farti comodamente in casa con una ricetta di sicura riuscita vi aspetta in tutte le librerie il ricettario dell'arte di ombretta fusco io, io me medesima mi raccomando se lo comprate fatevi una foto con il libro e taggatemi in modo che io possa condividerla sulle mie storie di instagram e allora grazie se lo comprerete e grazie soprattutto se farete i miei gufetti anche se fate questi taggatemi perché voglio vedere come vi vengono ora non mi rimane che mandarvi un grande bacio augurarvi uno splendido autunno e dargli appuntamento sempre qua per un prossimo video creativo da ombretta e da arte per te è tutto alla prossima volta ciao